I bambini dell'asilo di Rossos inaugurato in Russia dagli alpini incontreranno i piacentini. Saranno loro infatti i primi degli oltre 2000 ospiti dell'estate di Casalmontagna a Ferriere. Arrivano da una struttura realizzata dalle penne nere nell'ambito dell'operazione Sorriso del 1993. L'asilo di cui state vedendo le immagini con gli alpini piacentini che contribuirono alla costruzione, oggi ospita 120 bambini. Sono attesi a Ferriere nei primi giorni di giugno, meno di un mese dopo la donata nazionale. Durante il soggiorno piacentini incontreranno gli studenti coetanei. Siamo d'accordo con la direttrice di Vittorino. Il primo incontro l'abbiamo alla scuola e porteremo i bambini di Rossos. È una cosa attuale, Piacenza, ma da noi la coltiviamo da tanti anni, perché Rossos è il comune della Russia dove gli alpini hanno costruito uno dei più belli asili dell'Europa come segno di amicizia. Sapete che lì si è tenuta una grande guerra, una grande battaglia fra gli alpini e le armate della Russe. E lì gli alpini volerono questo segno di amicizia del costruito standard asilo. Verranno i bambini di questo asilo con i loro insegnanti. Grazie. Grazie.